Vabbè, io l'ho visto bene, questa settimana si è applicato tanto, lui c'è anche motivazione giusta visto che c'è nato figlio e quindi spero che ci vorrà dedicare una prestazione positiva perché le qualità ce l'ha, mentre lì c'è la fantasia in avanti, in difesa per ora si sta applicando bene, quindi penso che in difesa ci aiuta di più, in avanti dovrebbe essere più concreto. Mi staria invece tornando a parlare di Gantt? No, lui in queste due espressioni per me ha fatto bene, la prima perché è riuscita a giocare con una squadra e la seconda perché si proponeva, anche se noi visto che manteniamo il risultato non siamo partiti molto spesso. No, intanto è una squadra che gioca poco, ma gioca di rimessa molto bene e quindi è un avversario pericoloso, specialmente per come vorremmo giocare noi. bisogna stare attenti, concentrati e non lasciarli in molta iniziativa. Noi di nuovo contro queste squadre se ci allunghiamo finisce male per noi, quindi dobbiamo cercare di stare stretti e poi dipende se riusciamo a proporre il nostro o siamo su. Se non ci riusciamo dobbiamo subire giù, anche se negli ultimi tempi Piliaccelli è stato poco impegnato, dipende, dipende dalla crescita nostra. Io dico che questa squadra ha tante possibilità di migliorare, bisogna cercarle di farlo.